amiche ed amici di reti otto sport amiche ed amici di eccellenza on air buonasera da Lorenzo Valeriani e bentornati al nuovo appuntamento settimanale in una settimana che ha detto davvero tanto forse tutto perché cade ancora eh l'Avezzano la terza sconfitta in quattro gare per la formazione eh di Torti non ne approfitta il eh Giulianova sconfitto in casa al Fadini dal Casalbordino nell'ultimo secondo dell'ultimo minuto di gara e tra virgolette ne può approfittare l'Aquila l'Aquila che domenica non sarà in campo per il match contro l'Alba Adriatica persistono i casi covid nella formazione eh vibratiana e l'Aquila che oltre questa gara dovrà anche eh recuperare il eh match della eh domenica passata quando non è sceso in campo anche qui non per casi covid ma per eh mal tempo come è successo anche nelle altre eh tre gare della eh giornata parleremo di questo ma anche eh di tanto altro perché dall'ultimo appuntamento eh ci sono state eh due giornate di campionato disputate appunto quella di domenica scorsa e quella di eh mercoledì domani si torna in campo con degli incroci davvero interessanti e vedremo quale sarà la risposta non solo della capolista Avezzano che sulla carta eh dovrebbe avere un turno favorevole contro l'ultima della classe ma lo ripetiamo sempre il campionato di eccellenza ci regala sempre eh sorprese e le ultime giornate hanno dimostrato soprattutto che nulla è deciso soprattutto in testa e allora vado a salutare i miei ospiti i nostri ospiti eh di questa sera parto dal mister forse eh in copertina eh da diverse giornate di questo campionato Davide Antignani che ha vinto ancora un'altra partita e con i suoi ragazzini e lì su ad insediare le grandi. Ciao Davide eh grazie per essere presente eh come stai innanzitutto? Credo sereno e felice. Buonasera a tutti grazie per l'invito. Eh sereno e felice non è ancora però diciamo bene dai. Diciamo diciamo che la quota salvezza non è ancora raggiunta però il passo è quello giusto il passo è quello è quello che porterà sicuramente ad una tranquillità eh celere e veloce con la possibilità poi eh di sognare mister? No vabbè no no scherziamo no il passo è quello giusto per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo sperando che qualcuno fermi la sua cosa soprattutto ecco per? Dico che arrivi il prima possibile per poi il prima possibile per poi continuare a divertirci. Grazie mister torno subito da te eh saluto Marco Di Sante inviato di eh Rete Otto Sport che domenica eh se non erro ha seguito la gara del delfino correggimi Marco se sbaglio e benvenuto ad eccellenzo Neira. Buonasera Lorenzo buonasera ai telespettatori di Rete Otto mercoledì mercoledì ho seguito il delfino contro il Capistello una 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 bella gara una bella gara intensa beh la squadra di Bonatti si conosce il temperamento del suo miser ma anche il Capistello ha davvero fatto una buona gara mi hanno fatto una buona impressione purtroppo per loro il risultato non è stato eh non è stato di loro radimento però la prestazione è sicuramente da salvare. Eh grazie grazie a Marco Di Sante eh che eh ritroveremo tra qualche eh minuto un saluto un abbraccio anche a Pier Giorgio Stacchiotti ciao Pier Giorgio buonasera a te insomma un sabato una vigilia interessante perché eh domani insomma tanti match tanti incroci che potrebbero dare eh ancora di più segnali per 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 capire no come come andrà a strutturarsi questa classifica e di riflesso questo campionato. Ciao Pier Giorgio a te. Sì senza dubbio Lorenzo buonasera a te i nostri telespettatori e naturalmente un caro saluto anche agli altri ospiti sarà sicuramente una giornata interessantissima certo non si giocherà la partita non ci sarà la partita dell'Aquila ma sicuramente avremo Ponte Romano Giulianova che a mio giudizio sarà il match più interessante della giornata perché il Ponte Romano sappiamo benissimo quanto stia facendo bene non soltanto in casa ma anche in trasferta adesso oltretutto il Ponte Romano gioca bene eh e dopo le sette sconfitte iniziali ha preso avuto un ruolino di marcia che sarebbe un ruolino di marcia che oggi come oggi la vedrebbe già nei playoff se consideriamo i punti realizzati tra l'ottava giornata giornata in poi. Sì analisi statisticamente corretta e soprattutto a prescindere eh da quello che hanno detto le prime sette giornate si percepiva già la bontà della rosa la bontà della squadra e soprattutto eh lo lo ripeto sempre la bontà di una società che malgrado la casella quota zero eh in classifica ha deciso di di continuare con mister Piccioni ed ora il mister sta ripagando questa enorme fiducia a Pier Giorgio. Senza dubbio Lorenzo io ho avuto modo di assistere a più partite del Ponte Romano e e gradualmente ho visto un miglioramento del nel gioco ma soprattutto nella convinzione dei giocatori cioè nonostante in più occasioni eh Piccioni ha dovuto rinunciare ad una serie di giocatori vuoi per infortuni vuoi per per delle squalifiche chi ha giocato al posto di quelli che sarebbero stati i titolari in precedenza non hanno non li hanno mai fatti rimpiangere hanno sempre giocato bene si vede proprio il il buon lavoro di di Walter Piccioni ma ma anche i giocatori che sono ben addentrati nel progetto sicuramente ci sia ci sia ci sia una una come posso dire un feeling ormai instaurato tra il gruppo squadra e il mister e quando eh si combina questa chimica eh nessun nessun risultato è irraggiungibile insomma davvero davvero una scelta quella del Ponte Romano davvero davvero interessante un altro ospite stasera il parterre eh è interessante ma soprattutto è pieno zeppo eh di inviati come sempre quando c'è il turno infrasettimanale se possiamo eh eh lasciamo liberi i tecnici o i dirigenti però stasera insomma ci sembrava doveroso e giusto eh avere con noi mister Antignani e poi avremo anche un dirigente importante del cupello che ci spiegherà un po' l'andamento della 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 squadra eh un saluto a Giovanni Sidoni ancora un inviato di Rete Otto Sport Giovanni buonasera abbiamo eh l'avrai sentito insomma analizzato un po' eh l'inizio l'inizio eh di questa puntata soprattutto con i risultati strabilianti di Montesilvano eh la la corsa verso eh la zona eh alta della classifica del Ponte Romano che nelle prime sette aveva raccolto solo solo zero punti e insomma è questa Vezzano che eh nelle ultime quattro ne ha perse ne ha perse tre. Prima di farti intervenire aggiungo nel mosaico un altro inviato e Federico Di Fabio di eh Rete Otto Sport ciao Federico buonasera a te e bentornato in eccellenza on air vado da Giovanni insomma Giovanni le tue impressioni in trenta secondi di queste di queste giornate delle ultime soprattutto delle ultime due ma Lorenzo ciao innanzitutto ciao a te e ciao e benvenuti a tutti e tutti i nostri ospiti e chiaramente a tutti quelli che ci seguono e cosa dire eh un brevissimo eh la Vezzano sta avendo una crisi forse in attesa di avere il momento della stagione sia per quello che si era visto fino a questo momento eh il Giulianova non ne sta approfittando e quindi c'è da sottolineare questa risalita dell'Aquila che secondo me potrebbe rimettere veramente tutto in discussione con con un risultato positivo ecco nel recupero del del turno mancante. Sì dicevamo Giovanni ecco sì dicevamo Giovanni oltre al recupero per mal tempo l'Aquila dovrà sostenere un ennesimo sforzo diciamo così fuori calendario eh dopo eh l'ufficialità del rinvio che è arrivata ieri eh per il match contro l'Alba Adriatica persistono i casi di positività nella formazione di Diamicis sei barra otto insomma i casi riscontrati eh nella formazione eh al Benze e eh crediamo anzi lo speriamo che la prossima domenica sarà quella eh sarà quella giusta giocatori e con piccoli fastidi ovviamente tutti vaccinati però ecco eh il protocollo prevede questo quindi un'ennesima eh giornata da rinviare dopo quello che è accaduto all'Aquila per mal tempo in eh insieme ad altre tre gare Giovanni. Peraltro c'è anche il discorso della fase nazionale della Coppa Italia d'eccellenza no? Che potrebbe andare a gravare ulteriormente su quello che è un calendario che a questo punto si si farà molto fitto nei mesi di aprile e di maggio penso anche marzo in ultrata adesso. Beh sì staremo staremo a vedere con i turni di Coppa che si giocheranno il nove e il sedici eh marzo il nove in terra molisana il ritorno il sedici contro eh contro la città di Sernia ovviamente eh al Gran Sasso d'Italia Italo eh a Concia. Eccolo vado da Federico eh di Fabio ciao Federico buonasera bentornato in eccellenza eh on air hai ascoltato no le prime impressioni dei nostri ospiti vuoi aggiungere qualcosa? Condividi eh quanto detto o eh mettiamo un circoletto rosso su qualcos'altro. Ciao ciao Lorenzo buonasera a te a tutti gli ospiti e a chi ci segue da casa sì ovviamente eh condivido tutto ciò che è stato detto poco fa ma eh vorrei anche analizzare quello che è la situazione eh per la quinta eh posizione quindi per quanto riguarda l'ultimo posto utile per i play off perché se è vero che eh lì davanti hanno eh subito un piccolo stop Avezzano e Giulianova a sorridere oltre che all'Aquila che probabilmente eh potrà riaprire il campionato portandosi virtualmente a meno quattro dall'Avezzano eh sorride anche il Lanciano attualmente ma anche lo stesso Montesilvano di mister eh Antignani del fino a quelli pescara la quel cupello che siamo e sono quelle che appunto eh si stanno giocando l'ultimo posto eh utile per i play off ricordiamo che con eh dieci punti di scarto la lo spareggio tra quinta e seconda non eh si eh disputerà quindi ovviamente un eh dei piccoli passi falsi delle eh delle due davanti potrebbe anche eh dar modo alle alle altre squadre di in qualche modo di sperare appunto in questo in questo spareggio quindi diciamo che l'unica cosa che vorrà evidenziare anche questa oltre ovviamente ad una eh uno scontro salvezza che vede coinvolto praticamente a otto barra nove squadre che si fa sempre più entusiasmante ma l'eccellenza diciamo che c'è sempre eh regalato queste emozioni sia davanti che dietro fino alla fine. Sì ha perfettamente d'accordo stessa questione e torno da mister Antignani stessa questione eh relativa ovviamente alla distanza in classifica oltre che in testa si può notare anche mister eh in fondo in coda no? Con un casalbordino Davide che che ha cambiato marcia ha cambiato rosa soprattutto ha messo dentro giocatori importanti ho seguito la gara di mercoledì e devo dire che sono stato impressionato non solo dalle qualità tecniche ma da una cattiveria agonistica da una voglia di ribaltare il risultato eh fuori fuori dalla dalla norma davvero una formazione eh che mi ha che mi ha impressionato certo ancora attardata in classifica però eh dalle voci ascoltate fuori dal Fatini i giallorossi hanno fatto capire che non molleranno fino all'ultimo istante questo campionato. Eh come giusto che sia io eh mi ricollevo a quando ho detto prima da Lanciano eh a seguire noi eh fino al casalbordino dispiace un pochettino per il Villa però al momento lo vedo un pochettino tagliato eh eh fino a dal casalbordino fino a Lanciano sono tutte in forse che il casalbordino è quella che sta più in ritardo il resto sono girano tutti all'interno di sette, otto, dieci punti e se andiamo a vedere il calendario da qui alla fine ci sono tutti scondi diretti sia sopra che sotto fatti proprio dalla classifica cioè diventano scondi diretti fatti dalla classifica che è cortissima quindi non non ci sono partite che non hanno senso o partite che come si dice sono le partite di fine stagione io penso che fino all'ultima giornata non ce ne sarà nemmeno uno di fine stagione anche perché lo stesso Villa eh imbottito di ragazzini io conosco il mister Simone Vitale non regalerà niente a nessuno fino alla fine perché eh venderanno cara la pelle uno per mettere in mostro i tanti ragazzi che hanno due perché proprio la cultura del mister che eh finché la matematica da il lupicino di speranza è giusto che si giochi come sarà domenica con l'Avezzano come è stato contro di noi e come sarà su tutti i tanti mister secondo te ehm ci sarà la possibilità di eh guardando anche gli incroci soprattutto di coinvolgere il maggior numero di squadre sia nei playoff ma anche soprattutto nei play out perché è vero che il Casalbordino corre e sta correndo però è a sette punti dalla terz'ultima è l'occhio lo sguardo di chi è in basso verso la categoria denominata Serie D eh insomma è ben rivolto perché purtroppo per il Castelnuovo non non ci sono belle notizie almeno nelle ultime settimane infatti proprio questa è la cosa più pericolosa eh quando guardiamo in alto una categoria sopra eh giustamente è quello che ti dicevo dal Lanciano in giù eh tutti hanno paura quindi si giocherà fino all'ultima giornata fermo restando che mi auguro che il Castelnuovo si tiri fuori il prima possibile anche perché come organica tutte le carte di regola per tirarsi fuori però la Serie D è difficile quindi eh bisogna fare punti il prima possibile per cercare di evitare il sest'ultimo posto a questo momento di solito mister eh il riferimento di inizio stagione per quello che riguarda la quota salvezza è quasi sempre lo stesso in tutte le categorie no? Questo fatidico quaranta però credo che quest'anno possa eh possa davvero essere cancellato quel numero perché credo insomma quei tre quattro punti in più siano necessari per eh navigare in acqua tranquille tu che dici? Ci sono ventisette punti a disposizione con ventisette punti a disposizione eh con le partite da recuperare che dal comunicato che ho letto eh è come giusto che sia la federazione sta cercando di mettere il prima possibile appunto per non falsare le ultime giornate eh con ventisette punti a disposizione tutto è possibile ripeto poi eh tutti preghiamo che il Castelnuovo si salvi il prima possibile si tiri fuori però davide il numero giusto secondo te? Sì potrebbe essere la soglia la soglia insomma buona ottima per per considerando considerando i ventisette punti a disposizione i diciannove che ha il Casalbordino quarantacinque potrebbe essere potrebbe ricordiamoci la parola potrebbe perché non è sicuro sì sì sempre sempre condizionale d'obbligo in questa situazione perché davvero stanno succedendo tante 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 cose eh ricomincio il giro vado da Marco Di Sante Marco eh insomma hai seguito tu questa gara di mercoledì eh tra Delfino e Capistrello eh la formazione di Bonati dopo dopo qualche tiratina d'orecchio da parte del mister sembrano eh aver ripreso un cammino più tranquillo eh rispetto rispetto a qualche a qualche settimana fa però insomma come anticipava mister Antignani mai abbassare la guardia perché è vero che la vittoria sul Capistrello è importante però eh insomma le altre cominciano a correre lì sotto e e bisogna prestare prestare attenzione ma tu hai visto una squadra eh uscita fuori dalla convalescenza oppure c'è ancora c'è ancora qualcosino da qualcosina da correggere? No no va bene eh uscita fuori dalla convalescenza non ti saprei dire questo magari bisognerebbe chiederlo a Bonati che ha meglio di me il polso della situazione ho visto una squadra che francamente all'inizio ha impattato male la gara e il Capistrello poteva passare in vantaggio in più di un'occasione infatti mister Giordani a fine partita eh si rammaricava appunto del fatto di non essere andati in vantaggio loro per prima però poi c'è da dire che mister Bonati che conosciamo benissimo comunque i suoi ragazzi li muove in mezzo al campo come se fosse una playstation a un certo punto ha cambiato modulo e è stato bravo e poi diciamo che nella ripresa una volta andati in vantaggio non hanno praticamente rischiato rischiato più nulla e più che sul cosa a bordino io comunque vorrei un circoletto rosso il tuo classico circoletto rosso forse se ne parla poco ma anche misteriodice da quando è rientrato a penne sta facendo davvero cose cose importanti io mi ricordo di essere andato inviato per rete 8 nella sua prima dara dopo diciamo dopo il rientro molto tornato in in sella e lui era era convinto di potercela fare i risultati comunque gli stanno dando ragione adesso francamente statisticamente non so quanti punti abbia fatto dal suo rientro ma credo che stia stia andando davvero forte perché c'era un grosso cap rispetto a terzo ultimo adesso diciamo che lo ha colmato quasi del tutto se non mi sbaglio sì sì assolutamente il cammino il cammino del del penne da quando è tornato mister eh iodice e e cambiato però se andiamo a vedere la classifica ehm e qui eh faccio intervenire Pier Giorgio se andiamo a vedere la classifica il penne il penne cammina eh il Casalbordino eh con una marcia importante eh però se andiamo a vedere appunto la classifica il penne a quota ventotto ancora in bagarre eh eh play out e il Casalbordino come detto a sette punti dalla terz'ultima Angolana Spoltore e Sambuceto visto lo stato di forma e qui parlo soprattutto dell'Angolana Pier Giorgio cosa rischiano al cospetto di squadre che sono partite male ma che ora si sono rimesse sui binari giusti secondo te? Beh rischiano davvero tanto è vero che il penne corre ma come hai detto tu corre il Casalbordino eh Renato Curiangolana e Bacicalupo Vasto Marina recentemente hanno un pochino rallentato il proprio passo ma ma anche le squadre che sono leggermente sopra come ha ricordato anche mister Antignani lo spoltore il capistrello lo stesso Sambuceto al momento il Ponte Vovano che adesso è reduce da una serie estremamente positiva sembra essersi tirata fuori definitivamente ma bisogna anche valutare queste queste formazioni che hanno partite da recuperare ad esempio lo stesso penne deve recuperare una gara così come il Vasto Marina il il capistrello l'Alba Adriatica che rischia di venire risucchiata dalle zone basse della classifica ma ha pur sempre due gare da recuperare e nello stesso tempo ce ne sarà anche una terza contro l'Aquila visto che domani non l'Alba Adriatica non giocherà contro l'Aquila bisogna vedere quando recupererà queste partite e se troverà anche le forze giuste per affrontare più impegni infrasettimanali l'Alba Adriatica perché questo è un problema che può riguardare diverse squadre quando si giocano troppe partite ravvicinate un problema che peraltro le formazioni di eccellenza hanno già avuto nelle settimane precedenti nei mesi scorsi quindi bisogna vedere insomma se avranno i giocatori a disposizione per poter affrontare un numero elevato di partite nel giro di pochi giorni per quanto riguarda il termine qui allora Davide Antignani sicuramente toccherà qualunque tipo di ferro lì in in stanza però guardando la classifica se andiamo a vedere insomma tra i 26 punti della Bagica Lupo Vasto Marina che è terz'ultima e i 35 del Delfino Curi Pescara nel mezzo ci sono se non erro eh dieci squadre le conto quattro cinque sei sette otto no dieci squadre insomma da 35 a eh a 26 eh sono queste le squadre eh che più delle altre per ovviamente cercare di conservare la categoria dovranno sudare le proverbiali sette camice ho escluso Montesilvano eh e eh Lanciano che sono a a trentotto naturalmente Antignani non si non si pronuncia tu Federico cosa cosa dici? Federico non ti sento eh evidentemente il microfono disattivato vai Federico no Lorenzo dicevo sono sicuro che le dieci che tu hai citato sicuramente lotteranno fino eh alla fine sono eh altrettanto sicuro che squadre come il Ponte Umano e la Patriatica eh ma forse anche il San Buceto e il Delfino eh potranno tirarsi fuori il prima possibile da questa da questa lotta eh anche perché io francamente ho seguito diverse squadre eh appunto per Rete Otto Sport vedo Pupello, Spoltore, eh Angolana, Penne e eh Pagicolupo Posto Mania ovviamente oltre a casa al bordino magari un gradino non dico un gradino sotto però eh comunque le altre sono più attrezzate e hanno dimostrato anche maggiore quantità nel nel corso del campionato quindi eh sono sicuro che il Delfino al Patriatica che tra l'altro come diceva Pier Giorgio due partite a recuperare con domenica arriverà la terza e San Buceto si credo si tireranno fuori eh molto probabilmente il Ponte Umano non avrà nulla a che vedere con con questa lotta perché eh sta facendo un cammino impressionante e continuerà sicuramente eh a fare punti e credo lotterà fino alla fine per la quinta casella insieme a Lanciano e spero anche per mister Antigiani insieme tanti incroci interessanti eh e poi ripartiamo anche eh con Giovanni Sidoni eh me ne vengono in mente eh due su tutti Capistrello San Buceto e eh anzi ce ne sono diversi perché c'è anche eh Spoltore Casalbordino eh Penne Bagigalupo eh e poi c'è questo Virtus eh Cupello Torrese oltre eh giustamente ai già citati Ponte Vomano Giulianova Villa duemila quindici eh Avezzano e allora eh facendo dappare l'orecchia a Davide Antignani questo Montesilvano Delfino Curi potrebbe essere a prescindere dalla quota salvezza che si aggira attorno ai quarantacinque il vero eh il vero big match per eh il Montesilvano per fortificare una posizione una graduatoria già ottima così Giovanni Sicuramente ti dicevo Lorenzo scusami anche perché l'idea di di vedere insomma un ipotetico Montesilvano oltre la quota dei quaranta punti secondo me mette mette seriamente chiude seriamente il discorso per quello che riguarda che riguarda la salvezza io credo che sarà difficile estendere i playoff alla quinta ti dico la mia sincera la mia sincera opinione perché credo che Giulianova, L'Aquila e Avezzano comunque continueranno ad avere un trend importante e e quindi insomma penso che il discorso relativo alla salvezza sono convinto anche io che si possa chiudere secondo me intorno al capistrello ecco credo che che le altre società abbiano le qualità e soprattutto insomma la possibilità di chiuderlo prima il discorso per quello che riguarda le società invece che sono in posizione ecco pericolante tra virgolette a me stupisce molto di trovare l'angolana perché è una squadra che quando ho visto ha veramente tanta tanta qualità e quindi mi stupiscono devo dire che sono veramente stupefatto di questi ultimi due capitomboli ecco del del club di Città Sant'Angelo. Soprattutto considerando gli elementi gli elementi in rosa è vero che è una squadra che stupisce tanto però è anche una squadra che rispetto alle occasioni create sprega tanto e se andiamo a considerare che lì davanti c'è Miani c'è Farindolini e però hanno perso Farias e Casati però insomma è arrivato anche Marco Ciarcelluti da dalla serie D dal Pineto che è un giocatore che insomma ne ha fatte di presenza in quarta in quarta serie. Chiedo a Davide invece se è rimasto sorpreso da queste tre sconfitte in quattro giornate della Vezzano oppure se bene o male fisiologicamente un calo anche se sei capolista lo puoi lo puoi avere Davide? Allora io sono dell'opinione che forse è il primo calo diciamo no? Almeno sotto l'aspetto dei risultati. Sì io li vi di contro di noi dove in mezz'ora andammo sul due a zero per noi e poi perdemmo la partita grazie ai cambi che aveva mister Torti. Allora il campionato è strano il campionato d'eccellenza non si è mai vinto io lo vinto due volte non si è mai da giocatore non si è mai vinto con nome altisonanti o altro. La storia ci insegna che ci sono dei cali fisiologici tutte le squadre ce l'hanno forse loro lo stanno attraversando adesso ma sono sicuro che mister Torti sarà bravo a rimettere in riga sia i ragazzi che il trend dell'Avezzano. Fermo restando che anche il Giulianova sta avendo la stessa situazione e l'Aquila che io reputo la squadra più forte delle tre a livello di organico e mio parere personale a livello di organico eh lotta era pure l'Aquila fino alla fine perché mister l'organico più forte questa è una tua convinzione di inizio stagione o dopo il mercato che si è prolungato fino a febbraio cioè dopo la riparazione chiamiamola così. Allora adesso se ti devo dire la mia vado ad aprire una polemica che non ha senso perché già sono odiato da tutti e da tutti quindi ti direi ma come lo ero anche da giocatore. In che senso? Nel senso che ti apro una polemica un cambiato un campionato fatto con tre finestre di mercato con un mercato così lungo non ha senso perché ci sono state squadre che hanno eh rivoluzionato tutto l'organico ci vedi Casalbordino e vedi altro mi fa piacere per loro però per le altre magari non può essere giusto oppure però ci sono state purtroppo delle vicissitudini che hanno voluto questo quindi ci sta a chi eh ne ha approfittato e ne sta tenendo vantaggi e chi purtroppo eh non è stato in grado di approfittare sicuramente un campionato con tre finestre di mercato è un po' anomalo eh questo possiamo dirlo tutti eh strano vedere anche se l'Aquila Davide diciamo che era temuta all'inizio nel mezzo e in questo no ma l'Aquila io ho sempre detto che ha avuto l'organico più forte io ho sempre detto che ha avuto l'organico più forte perché eh è una squadra strutturata per fare altri tipi di categorie sia come società sia come staff sia come rosa come tutto quindi così come l'avversario Giuliano io l'ho sempre detto io invece mi vorrei soffermare su quello che dicevate prima perché nella stessa trasmissione non so se ti ricordi Lorenzo c'eravamo io e mister Piccioni e dove io dissi che nella prima partita di Coppa Italia il Ponte Romano era una squadra che veniva sottovalutata da tutti e che si sarebbe salvata tranquillamente ora il mister Piccioni non è collegato e tocca sicuramente ferro però penso che tu te lo ricordi e io lo dissi quando quando lo vidi la prima giornata di Coppa Italia dissi questi non avranno problemi a salvarsi e tant'è che faccio i complimenti alla società perché hanno saputo dare fiducia all'allenatore perché ci sono questi vizi a cambiare qualcuno li brucia qualcuno li brucia troppo presto no lo possiamo dire tranquillamente esatto esatto quello ti stavo dicendo cioè non è possibile cambiare allenatore dopo due giornate dopo tre giornate però poi ognuno fa ciò che meglio crede io ho una società che per esempio dico la mia ho una società che mi ha dato la massima fiducia a prescindere dai risultati eh il mister Piccioni ha una società che ha dato la massima fiducia a prescindere dai risultati i dirigenti del penne sono stati bravissimi a richiamare mister di odice senza nulla a togliere al mister Aielli e stanno traendo i loro risultati quindi di conseguenza però Davide anche in eccellenza si è agevolati con tutto il rispetto per chi porta il nome Montesilvano per chi porta il nome Ponte Romano e penne eh visto che li hai citati proprio tu eh è più facile ottenere questa calma e non prendere decisioni forti quando l'ambiente è quello è l'ambiente di Montesilvano è l'ambiente di di Ponte Romano sicuramente sicuramente non è quello dell'Aquila perché l'Aquila lo voglio ricordare lo dissi nella puntata precedente eh ha avuto tre allenatori finora in questa stagione eppure in una squadra che ad oggi si sta giocando il campionato e che ha alzato qualche settimana fa al cielo il trofeo della Coppa Italia di eccellenza è un po' un paradosso una squadra che sta lì su eppure ha avuto tre mister da inizio stagione è difficile spiegarlo però se ci riesci tu noi siamo qui e ti ascoltiamo insomma no 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 è difficile hai ragione è difficile spiegarlo io l'ho vissuto eh io lo vivo cioè quotidianamente col Chieti purtroppo purtroppo no per fortuna ci sono queste piazze che questa categoria non c'entrano niente quindi eh vuoi eh le tifoserie vuoi le pretese delle tifoserie le ambizioni eh il quantitativo del budget speso e quant'altro eh la spiegazione potrebbe essere questa rispetto a a quelle squadre che abbiamo citato prima che sono un pochettino più piccole e più abituate alla categoria sì sì su questo su questo sono d'accordo infatti ti chiedevo appunto quello poi eh la tranquillità eh di lavorare in un ambiente che bene o male non ha pretese non ha pressioni non ha l'assillo di dover raggiungere un obiettivo appunto perché il budget d'inizio stagione non era un budget importante eh e questo poi ti consente anche eh di ottenere i risultati eh la domenica e e farti correre il rischio se così lo possiamo chiamare Davide di mettere in campo anche dei ragazzetti perché tu insomma domenica anzi mercoledì eh qualche qualche record l'hai fatto toccare a qualche a qualche giovanotto no? Quindi ecco forse in altre piazze è impossibile arrivare a a a fare esordire eh dei giovani calciatori allora io mi reputo fortunato ti dico la verità sono fortunato perché ho avuto una società che ha investito su di me ehm in principio io avevo chiesto eh tanti ragazzi che avevo con la riunione esternazionale del Chieti e sono stato accontentato e in più a Montesilvano c'erano quattro cinque ragazzi veramente validi che eh ho subito chiesto di far rimanere e sono rimasti eh purtroppo Marrone e Petito all'inizio erano andati via perché magari se li avessimo avuti dall'inizio staremmo parlando anche di altre cose ehm quando hai la possibilità di avere a disposizione questi ragazzi questa calma questa tranquillità non hai pressione non hai nulla eh i risultati si vedono noi domenica come dici tu abbiamo abbiamo fatto due gol con un duemilacinque che eh credo sia record credo sia record storico per questa categoria adesso insomma tornare indietro nel tempo eh mi risulta difficile però insomma eh io mi ricordo che a sedici anni e un mese feci gol ti dico la verità eh controllava però però ne hai fatto uno solo non doppietta no doppietta no doppietta no eh no Lupinetti Lupinetti merita eh tutto quello che gli sta succedendo perché ci sono tante squadre professionisti che gli hanno messo gli occhi addosso ma così come Lupinetti tanti altri noi abbiamo una Juniors che è prima in classifica e lunedì se Dio vuole eh possiamo chiudere la prima fase in testa vincendo il campionato e preparare la seconda fase in anticipo e e questo è dovuto a quello che hai detto tu abbiamo una società sana una società che non mette alcun tipo di pressione è capitato anche che abbiamo perso delle partite ma per colpa mia stupide oppure per qualche errore di troppo che ho fatto io o qualche errore dei ragazzi però il presidente così come tutti i dirigenti sono sempre stati lì a tranquillizzarci il presidente fino a ieri è venuto dentro lo spogliatoio e a tranquillizzarci e a farci stare tranquilli quindi non purtroppo le situazioni sono diverse tra noi e quelle grandi piazze che come ti dicevo non c'entrano niente con questo campionato assolutamente a proposito e non si offendano gli altri perché non sono vecchi ma sono gli altri che sono eh molto giovani queste ultime giornate hanno evidenziato la bontà del lavoro di Antignani la bontà del lavoro di Piccioni la bontà eh del lavoro di un esordiente perché Cerasi è eh un esordiente anche se l'età eh 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 è diversa Bonati che ormai lo possiamo dire tranquillamente è navigato è anziano per questa categoria è anziano calcisticamente ma anagraficamente davvero è un eh eh ragazzino e quindi eh forse si si attende solo la conferma di 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 Camillo diciamo eh diciamo così però questa nuova generazione ragazzi eh ve la faccio giudicare a voi che 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 cosa significa che i nuovi metodi se ci sono hanno portato qualcosa di diverso e qualcosa di meglio eh all'eccellenza alla all'eccellenza abruzzese oppure solo un periodo chiamiamolo così ma eh poi col passare delle giornate riusciranno fuori i vecchi volponi dell'eccellenza e ovviamente parlo di Torti parlo di eh Donato Ronci di di Paolo Rachini insomma ecco faccio questa considerazione la giro a Federico di Fabio e poi eh vado a chiudere con Marco Di Sante poi un piccolo giudizio da Davide però lo eh lo voglio sotto questo punto di vista Federico. Lorenzo allora io penso che i giovani portano i giovani nel senso che mi spiego meglio eh allenatori come Bonati come mister Antignani come eh tutti gli altri allenatori che tu hai citato all'esclusione di Cerasi che comunque è un allenatore con i giovani è sempre lavorato nonostante anagraficamente sia eh appunto un po' appunto decine di anni più dei di quelli che ho citato prima eh non hanno paura ovviamente a far giocare giovani e e i giovani hanno bisogno di giocare per per migliorare eh sia il Delfino sia il Montesivano che sono le squadre che ho potuto seguire eh di più in questa stagione ma anche lo stesso Villa che comunque eh nonostante la classifica sta a tempo con giocatori ripetiamo duemina due duemina tre anche duemina quattro a volte in duemina cinque eh in porta stanno ottenendo sempre più progressi e questo ovviamente eh più si fa spazi ai giovani e più si riesce anche a lavorare meglio a migliorare nel corso della stagione quindi eh sono squadre che eh stanno facendo appunto con eh l'età grafica eh la loro fortuna ma secondo me sono appunto gli allenatori giovani a a a a sapere di poter rischiare di di tirare appunto dalla eh dalla propria rosa dei giovani di qualità ovviamente vanno aiutati con settori giovanili eh importanti però lo stesso mister Antignani viene da un percorso giovanile eh importante si è portato alcuni dei suoi ragazzi eh dal dal river che appunto hanno dimostrato anche in questa stagione che eh l'eccellenza ma forse anche qualcosina in più eh meri meritano e meriteranno nel corso della propria carriera ovviamente il Monsilvano aveva anche dei giovani eh come appunto Tassone altri altri giovani che eh adesso mi sfuggono ma che comunque eh sono sono forti lo stesso Delfino ha praticamente un settore giovanile eh importantissimo rimanendo in tema pescarese quindi eh credo che appunto gli allenatori giovani portano appunto eh il saper riuscire appunto a far dimostrare eh ai giocatori più giovani di eh cacciare un po' tutto quello con le qualità che hanno quindi eh questo questo gli aiuta ovviamente una qualità che magari allenatori più navigati come Torti ma anche eh altri eh lo stesso Giordani eh riescono eh meno a saper tirare fuori ma questo non è un difetto ovviamente eh loro semplicemente un moto una cultura calcistica totalmente diversa che eh più passano gli anni più più appunto viene viene cambiata soprattutto perché sono squadre eh che hanno over importantissimi eh che hanno la possibilità economica di avere in rosa under casomai tesserate con altre società da prendere in prestito e lì lo sappiamo poi il mercato degli under sale un po' eh non solo di livello ma soprattutto di di prezzo perché eh quando c'è la necessità di doverlo schierare e quando eh ce ne sono pochi in giro quei pochi che ci sono costicchiano eh questo non ce l'ho ovviamente ovviamente Lorenzo questo è comunque anche un fattore positivo per le squadre che abbiamo citato prima perché ovviamente eh squadre come Montesilvano, Delfino, è tutto fatto in casa diciamo. Esatto hanno poco budget quindi sono anche a volte obbligati a dover fare determinate scelte però a volte queste scelte premiano e siamo contenti che sia così. A Giovanni Sidoni invece chiedo eh sempre la stessa cosa insomma un suo parere su questo eh cambio di passo eh nell'età media dei mister e e soprattutto eh l'ha seguito spesso il Lanciano è arrivata la prima vittoria di Pasquilli ed è arrivata nel modo più clamoroso credo perché è andato a trovare i tre punti in casa in casa dell'Avezzano e questo tra l'altro con un Avezzano che ascoltava le notizie provenienti dal Fadini stessa cosa facevano l'Aquila e Giulianova quindi c'è stato un rincorrersi eh eh generale con questo scivolone eh della Avezzano anche lui mister insomma che arriva in eccellenza eh abruzzese un parere su di lui e soprattutto poi tornando al discorso di prima se eh ormai è acclarato questo cambio generazionale con i giovani che appena eh appendono gli scarpini al chiodo possono comodamente sedersi in panchina perché l'hanno giocato questo campionato lo conoscono e soprattutto conoscono gli avversari Giovanni. Sì sì io Lorenzo sono d'accordo cioè credo che ci sia effettivamente un cambio di passo cambio di passo che può essere chiaramente riferito a diversi discorsi si può andare non lo so da da una fattispecie magari legata agli stimoli piuttosto da un'altra legata a magari un intervento della tecnologia o di metodiche di lavoro nuove oppure un'apertura semplicemente a un tipo di calcio diverso rispetto a quello a quello precedente ecco a quello di di dieci anni fa come come modus superandi. Su Pasculli ti ha ti ha stupito oppure la struttura del Lanciano ecco a prescindere dalla dall'allenatore Lanciano aveva dimostrato anche qui con tanti cambi in panchina aveva dimostrato di 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 essere lì stabilmente in zona eh playoff poi ecco eh da calcolare ovviamente la distanza dei punti con con la seconda Giovanni. Certo guarda io ti posso dire che il Lanciano che ho visto con Bellè non l'ho ancora rivisto con Pasculli. Parlo ovviamente del match di esordio che ho seguito con appunto con il nuovo mister eh ho visto gli lights della gara con l'Avezzano dove effettivamente tutto sommato ho visto un tiro poi la squadra è stata molto ordinata sicuramente perché insomma non ricevere il contraccolpo no dopo dopo aver segnato in casa voglio dire della capolista vuol dire sicuramente aver condotto una gara molto equilibrata però il gioco spettacolare visto con con Bellè non l'ho ancora visto con Pasculli. Il mister mi sembra comunque soddisfatto quindi sicuramente ecco lui sa dove sta andando a parare però devo dire che se devo spezzare una lancia ecco a favore del gioco con con Bellè ho visto un gioco veramente frizzante. Un gioco un gioco diverso accompagnato anche da diversi da diversi punti no tant'è che è sembrata ai tanti un po' spiegabile questa eh questo esonero insomma questo cambio in panchina. Marco Di Sante invece a proposito di un altro che non è giovane ma è pur sempre esordiente questo mister Cerasi che io domenica anzi mercoledì eh ho visto visibilmente affranto ma sai perché Marco e poi chiedo un giudizio anche agli altri perché eh forse doveva capire prima eh che un pareggio è meglio di una sconfitta soprattutto nel momento in cui dal Dei Marsi arrivavano notizie eh di un Lanciano avanti uno a zero. Potrebbe pesare questo punto con un Giulianova che si è riversato in avanti fino al quarantanovesimo quando poi è arrivato il gol di di Salghiero? Allora Lorenzo consentimi un attimo una cosa la lista alla lista che hai fatto prima dei giovani allenatori va sicuramente annoverato anche di Reggio Cristofari che sta facendo un campionato fantastico perché molti lo davano per per scontato però. Per me Reggio è vecchio eh calcisticamente. No però con la Torrese. Anagraficamente anagraficamente giovanissimo insomma. Davide Reggio con qualche allenamento in più potrebbero indossare anche la maglia non dico da titolare però ecco potrebbero figurare tranquillamente in rosa. Dico arrivare con la Torrese per l'amore del cielo ho un ottimo staff Pier Giorgio che ha seguito più di me sicuramente eh potrebbe essere più esaustivo. Però arrivare con la Torrese al ridosso di piazze importanti come l'Aquila, Vettano e Giulianova secondo me tra virgolette eh il suo campionato Remigio l'ha già vinto essendo il primo dei normali tra virgolette. Per quanto riguarda il discorso di Giulianova tu eri al campo e sicuramente eh puoi dare un giudizio migliore del mio. Però io ho visto gli ai rights e mi sembra che sul 2 a 0 Di Paolo abbia fallito un'occasione clamorosa. Parlafante. Ha sbagliato parlafante quelle ha ha cercato di scucchiaiare. Sì. E qui apre chiudo la parentesi le tv forse un po' fanno male no? Perché eh invece del cucchiaio forse ci vuole un bel coltello e una rasoiata rasoterra per battere l'estremo. Però eh insomma lì eh dopo qualche secondo è arrivato il 2 a 1. Il 2 a 1 ti ha riaperto eh riaperto la gara sì e probabilmente se si andava sul 3 a 0 la gara si poteva considerare virtualmente chiusa e invece così poi poi magari anche sull'onda emotiva delle notizie appunto come dicevi tu che arrivavano ad Avezzano si sono lasciati un attimino ehm si sono fatti prendere la mano e poi a volte come dici tu è meglio meglio un punto che nulla eh da però c'è anche da dire per quanto riguarda l'Avezzano che eh non avete fatto menzione l'Avezzano è finita in nove cioè ha perso è vero che ha perso contro il Lanciano io ho visto anche qui ho visto gli Highlights mi sembra anche una deviazione però è stato espulso Zanon nel primo tempo se non erro e Dosantos nel finale cioè finire il nove contro il Lanciano è un po' difficile io penso che comunque che alla fine mister mister Torti non lo perderà questo campionato mi voglio sbilanciare perché la rosa la rosa dell'Avezzano è troppo importante i punti di distanza con con l'Aquila comunque sono tanti e l'Aquila io mi auguro da sportivo e da sportivo abruzzese che l'Aquila possa andare più avanti possibile in Coppa Italia eh anche nella fase nazionale dunque avere giocare ogni tre giorni penso che sia anche per una rosa importante come quella dell'Aquila può essere molto molto provante dal punto di vista fisico. Beh tra l'altro in questo caso ci potremmo ritrovare eh una squadra abruzzese promossa dalla regular season un'altra abruzzese promossa dalla Coppa Italia e poi chissà anche magari una delle play off nazionali la chiameranno insomma Serie Abruzzo sperando sempre che eh Castelnuovo soprattutto perché per Nereto credo che sia davvero difficile complicata. Sì. Eh a Pier ma il calendario mette di fronte alla capolista eh l'ultima in classifica Pier Giorgio può anche incidere questo nel senso non ti trovi due giocatori esperti e forti con l'ultima in classifica meglio domenica che in un'altra eh giornata tu che dici? Sì Lorenzo sicuramente è difficile eh con tutto il rispetto per il Villa però da calendario eh se l'Avezzano ha intenzione di ripartire la la forse la giornata è quella giusta ecco. Sì sicuramente l'Avezzano non può fallire diciamolo chiaramente pur essendo d'accordo con quanto ho detto in precedenza da mister Antignani che il Villa duemila quindici è tutt'altro che una squadra materasso è una formazione che si sta giocando tutte le partite c'è al di là del di quello che è risultato finale ma come impegno come approccio in eh al al fischio d'inizio sicuramente non non regala nulla a nessuno il Villa duemila quindici e sono convinto che continuerà con questo trend continuerà a non regalare nulla a nessuno sono sono veramente d'accordo su questo con mister Antignani. Per quanto riguarda l'Avezzano sì adesso è un momento delicato inutile cioè è innegabile a mio giudizio tre sconfitte nelle ultime quattro partite io addirittura nel dopo gara di Ponte Uomano a Vezzano sentivo dire no che paragonavano a Vezzano e Giuliano a Milan e Inter quando nel dopo gara il presidente Paris era furioso insomma per questa sconfitta contro il Ponte Uomano mentre c'erano i dirigenti che dicevano vabbè ma siamo sempre primi in classifica cerchiamo di mantenere un pochino di equilibrio ma è pur vero che però poi è arrivato un ulteriore sconfitta a Casalinga con il Lanciano e adesso l'Avezzano è obbligato a reagire ma soprattutto per quanto fatto fino a venti giorni fa un mese fa quando era una squadra schiacciatazzi che segnava tantissimo ma comunque pur subendo qualche gol di troppo rispetto ad altre compagini come Giulianova e come l'Aquila ad esempio ma comunque portava a casa i tre punti in maniera netta dominava i match mentre adesso sono arrivate tre sconfitte quelle tre sconfitte che non erano arrivate nei precedenti ventuno incontri se non ero sì ventuno incontri quindi è obbligato a vincere l'Avezzano sono nove saranno 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 nove eh finali da domani come ha ricordato eh ieri il direttore sportivo eh Ridolfi saranno nove saranno nove finali a partire da quella di di domenica con il Villa duemila a quindici apro un'altra eh discussione perché eh in base ai numeri eh riguardanti i gol segnati dall'Avezzano fino a qualche giornata fa si diceva per batterlo devi segnare almeno due barra tre gol perché la media dell'Avezzano è così alta da portare la formazione di Torti ad una media di tre gol a partita o o quasi eppure in queste ultime gare eh nelle tre soprattutto che ha perso il Ponte Romano ha davvero dovuto realizzare tre reti però Lanciano e Giulianova eh hanno portato a casa la vittoria con un punteggio eh di misura eh e allora il giro parte dicendovi e chiedendovi è un problema difensivo oppure eh gli attaccanti stanno vivendo un periodo di appannamento eh vado da Federico Di Fabio ma eh Lorenzo io sono sempre del parere che la squadra l'ha presa nel suo collettivo ovviamente un allenatore deve andare eh a eh trovare quello che è appunto il meccanismo che non va ma eh mister Antignani ovviamente ne conosce più di noi eh però comunque eh quando una difesa subisce troppi gol non è sempre colpa della difesa quando un attacco non fa eh non fa gol non è mai sempre colpa dell'attacco eh se un attaccante non riceve palloni non può essere colpa di un attaccante se il difensore non è eh aiutato nel appunto meccanismo difensivo non può essere soltanto colpa della della difesa quindi eh sono del parere che va analizzata un po' la situazione eh in maniera eh completa piuttosto. All'altro Federico scusami se ti scusami Federico se ti interrompo prima del gol del Lanciano e quindi sullo zero a zero l'Avezzano insomma ha tirato in porta parecchie volte eh questo non lo possiamo negare c'è stato un palo di pendenza se non erro insomma l'Avezzano non è non è morto ecco diciamo così calcisticamente parlando una squadra che reagisce però ora mentre gli altri eh tra virgolette secondo me dovevano eh sforzare ancora di più la testa eh dovendo sempre rincorrere ora ecco l'Avezzano deve fare la corsa su se stessa però ora un'occhiata agli altri campi Federico la deve dare secondo me eh ma assolutamente è vero che comunque se ne vince tutte eh eh matematicamente è campione eh però eh deve assolutamente vedere dare uno sguardo agli altri campi anche perché ha dei turni eh importanti ancora eh mi sembra che deve andare a a Giulianova contro domenica c'è il termine con l'Aquila esatto quindi eh all'Aquila Torrese quindi non ha proprio un un girone facilissimo qualche punto lo potrà perdere e quindi uno sguardo anche per farsi dei calcoli magari un pareggio a eh Giulianova contro la Torrese all'Aquila ehm potrebbe essere diciamo un risultato positivo soltanto dando uno sguardo alle altre alle altri campi quindi sicuramente daranno uno sguardo lì eh Davide è sempre meglio fare fare la lepre no? Nel senso far correre eh gli altri eh però dopo tre sconfitte in quattro gare forse è meglio stare dall'altra parte in questo caso stare dalla parte dell'Aquila secondo te mentalmente sempre la classifica la classifica è quella no io vorrei stare sempre dalla parte dell'Avezzano eh e chi ha dietro non può sbagliare tu puoi sempre sbagliare quindi chi ha dietro magari ha maggiore pressione rispetto a te perché tu sei lì davanti e sbagli ma chi sta dietro poi deve vincere quindi di conseguenza è meglio fare la lepre e non stare dietro eh due cosine a volo volevo dire innanzitutto ho visto anch'io le le lez di Avezzano e Lanciano eh l'Avezzano ha avuto quattro cinque occasioni da colpe clamorose eh avendo fatto per per oltre vent'anni l'attaccante eh vi dico che la colpa non è né della difesa né dell'attacco c'è il periodo dove la porta non la vedi c'è il periodo dove la tocchi con l'orecchio e la palla va a finire in porta quindi questo è fisiologico eh poi mi ricollego a quanto detto dal signor Di Sante che eh c'eravamo dimenticati tutti di Remigio io l'ho incontrato domenica scorsa e e un signor allenatore nonostante la mia stessa età lui ha molti più campionati di me abbiamo fatto il corso insieme e rispetto a quelle quattro cinque squadre che sono lì davanti io l'ho detto anche in conferenza stampa l'ho detto anche dopo la partita che abbiamo vinto domenica contro di loro eh lui ha avuto la bravura di lui e la sua società soprattutto hanno avuto la bravura di costruire una macchina quasi perfetta perché negli anni hanno messo un tassello alla volta e ogni anno se vado a vedere le statistiche negli ultimi tre quattro anni si classificano fra le prime sei posizioni quindi questo eh hanno vinto anche la Coppa Italia d'eccellenza due anni fa la penultima giocavo va a gratificare va a gratificare il lavoro la programmazione che hanno società solida eh puntano su un allenatore giovane con giocatori giovani ed esperti di qualità e quindi ce l'eravamo dimenticati di Remigio ma è tanta roba. Dai io lo stavo per nominare poi eh era stato con noi se non erro due puntate fa e anche a lui feci eh questa domanda perché c'era proprio eh Walter Piccioni insieme al mister del della Torrese eh si scambiarono tantissimi tantissimi complimenti per quello che stavano eh facendo ovviamente Piccioni ancora non conosceva il suo futuro eh a livello di risultati e oggi insomma l'ho sentito ieri devo dire per messaggio molto 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 contento però mi ha detto ancora ancora non è fatta sarebbe sarebbe come uno scudetto considerando le prime sette giornate a quota eh a quota eh zero dando un'occhiata alle partite di eh di domani Davide ti chiedo escludendo ovviamente la tua che è sempre la partita più importante per quel che ti riguarda eh da spettatore eh dove dove andresti a a a vedere un bel match non solo eh legato alla classifica ma soprattutto in base ai giocatori che sono che sono in campo e agli allenatori che siedono in panchina ma io domani andrei a vedere Montesilvano Flacco eh ma ti ho detto di escludere la tua ovviamente però guarda ti posso ti posso lanciare ti posso io credo che Pontevomano Giulianova sia davvero interessante e e e poi a me eh insomma stimola tanto anche questo Virtus Cupello Torrese allora io sono stato a Cupello due domeniche fa se non sbaglio e noi abbiamo praticamente subito il gol del pareggio che ci hanno richiamato da dentro gli spogliatoi che era rigore sto scherzando abbiamo subito il gol del pareggio al cinquantunesimo quindi era il novantacinquesimo e oltre il Cupello è una squadra che non molla mai e guidata da un ottimo allenatore e quindi sarà una bella partita Pontevomano Giulianova sì potrebbe essere una grande partita l'unica cosa che mi dispiace e e questo a Walter già gliel'avevo detto è quel campo che è improponibile e io credo allora qualcuno qualcuno eh parlando di campo eh bene o male parla anche di vantaggio per la squadra di casa ma io devo dire che quando ho visto no no giocare sul sintetico eh col Delfino Curi piuttosto che con altre formazioni ha fatto vedere davvero tante eh tante cose belle perché tecnicamente ha giocatori di valore Polisena lo conosciamo Polisena è un giocatore meraviglioso domenica eh ha 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 domesticato un pallone in mezzo al fango se l'è portato avanti con un controllo a seguire meraviglioso e insomma se non era fatto quindici goal in in stagione quindi insomma di cappello mi ricollego a questo mi ricollego a questo proprio perché contro di noi su campo nostro fecero una partita allucinante per questo ti dico anche loro sono penalizzati secondo me a giocare su quel campo quindi Pontevomano Giulianova da vedere su un campo da calcio bello sarebbe stata la la partita la partita perfetta da andare a vedere non la toglie che però si potrebbero evidenziare caratteristiche del Giulianova eh che che non abbiamo visto cioè quello del carattere della grinta della della forza fisica dell'agonismo insomma ecco potrebbe essere una partita eh capace di 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 darci nuove informazioni soprattutto sullo stato mentale di questa squadra che non era partita con i favori del pronostico però adesso quando sei lì te la devi giocare con tutti eh sicuramente è una partita che ci tira tanto il mister Cerasi che io ho avuto la fortuna di conoscere all'andata perché non lo conoscevo una bravissima persona un grande allenatore soprattutto ha lavorato tanti anni con i giovani benissimo lo sta facendo tuttora quindi avrà saputo sicuramente in questi due giorni tre giorni eh prima della partita di domani ricaricare le batterie dei suoi ragazzi e andranno a fare sicuramente una partita dove vedremo proprio quelle caratteristiche sono venute meno nella partita con Casalbordini e ne approfitto per dire che la gara di domani che si svolgerà a porte e chiuse al comunale di eh Villa eh Vomano sarà tra me trasmessa in streaming eh dal nostro canale quindi eh troverete ovviamente il link sulle eh pagine Facebook delle due società che sono Ponte Vomano e Giulianova e questo per consentire a tutti di godere di uno spettacolo noi lo speriamo davvero tra il eh Ponte Vomano e il eh Giulianova l'ultimo giro la domanda è quella che faccio sempre che ho fatto già a Davide Pier Giorgio Stacchiotti eh dove sarai e e dove vorresti essere soprattutto? Qual è secondo te la gara più affascinante? Allora io domani sarò a Penne seguirò questo scontro salvezza fra Penne e Bacicalupo Vasto Marina mi piacerebbe essere a Montesilvano adesso io posso dire perché mi piacerebbe vedere Montesilvano Curi Pescara e un'altra andare in spiace ovviamente ma ma per vedere la partita. No in questo tempo il tempo delle ultime ore direi proprio di no. E poi mi incuriosisce molto Spoltore Casalbordino ma più che altro perché sarei curioso di vedere in prima persona questi miglioramenti questa crescita del Casalbordino che non ho avuto modo di vedere di recente quindi sarei molto attratto da questa partita proprio per seguire il il nuovo corso diciamo del Casalbordino. Salguero giocatore meraviglioso ve lo dico mi ha stupito anche Regner della Penna che insomma è giocatore è giocatore storico e è forte 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 Ciafardini insomma si presenta si presenta da solo davvero davvero una squadra rivoluzionata a me ha a me ha impressionato l'ho detto poche volte in stagione però questo Casalbordino mi ha mi ha davvero impressionato visto a Giulianova contro una squadra che lo ripetiamo è lì secondo in classifica forse si è lasciata sfuggire l'occasione giusta in altre partite ma non in quella col Casalbordino perché è una squadra quella giallorossa ospite che ha cercato la vittoria fino alla fine fino a quel gol che poi ha portato all'esultanza generale dei tifosi giallorossi presenti in tribuna. Giovanni Sidoni tu che fai domani e dove vorresti essere? Io sarò a Lanciano per Lanciano Renato Curiangolana e devo dire che quello dovrei essere. Sì questa è un'altra bella sfida perché insomma la formazione di Rachini sta passando sta passando per i guai. Sì secondo me è una partita che potenzialmente può dire veramente tanto per quello che che concerne la stagione delle due squadre perché Lanciano con un risultato positivo potrebbe riprendere la sua corsa verso insomma queste ipotesi di playoff anche se ti ripeto credo che che la differenza si sia insomma la differenza di punti rispetto alla seconda sia un po' troppo ampia da da poter essere ecco accorciata. Però il Lanciano insomma potrebbe dare continuità e dall'altro volato ci abbiamo Renato Curiangolana che insomma con un successo potrebbe rimettersi fortemente in gioco per la salvezza con una sconfitta credo che i giochi si andrebbero fortemente a complicare. Sì 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 si si farebbe davvero davvero dura per per l'angolana squadra forse anche poco abituata a stare a stare lì sotto. Marco tu che dici dove lo metti l'asterisco domani? Allora io domani sarò a Pontevomano per Pontevomano Giulianova. Quindi diciamo che hai la partita forse più interessante no? Qualcuno ti invidia guardo gli occhi di Pier Giorgio forse qualcuno ti invidia. Sulla carta sì però se dovessi scegliere io non avrei dubbio a Montesilvano perché la sfida tra Bonati e Antignani da sola vale il prezzo del biglietto. Insomma Davide un bel riconoscimento forse a Montesilvano ci sarà Federico Di Fabio o sbaglio? No no Renzo credo ci sia Antonio Di Berardino. Io sarò a Francavilla per il il match. Vedrai questo testa coda. Testa coda esatto però sinceramente ehm vorrei uno schermo che mi proiettasse tutte e dici tutte e otto le partite perché non riesco a trovare una brutta quindi guarda guarda te lo te lo elenco io eh calcio duemila calcio Montesilvano contro Delfino Curi, Capistrello, Sambuceto, L'Aquila Albadriati che è rinviata lo ricordo ai nostri amici telespettatori per casi covid nella formazione Teramana, Lanciano, Renato Curi, Penne, Baggi Galupo, Ponte Vomano, Giulianova, Spoltore, Casalbordino, Villa duemila quindici Avezzano e Virtus Cupello eh Torrese. Io andrei a io io proprio non riesco non riuscirei a scegliere una partita da escludere sinceramente. Eh sì devo dire che sono tutti incroci tutti incroci molto 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 particolari. Eh vado da Davide prima di chiudere Davide eh secondo te eh eh rispondimi sinceramente una vittoria come dicevo qualche minuto fa eh tua sul Delfino eh potrebbe definitivamente anche se poi la quota non è quella ripetiamolo però potrebbe definitivamente farvi pensare ad altro? No. No? No. Lo dicevo. No. No. Lo dicevo ieri. Basterebbe un'altra vittoria nell'arco di otto gare ecco. Lo dicevo ieri ai ragazzi prima della partita con la Baggi Galupo e l'ho ripetuto oggi. Eh allora praticamente ehm ho detto ai ragazzi che dobbiamo fare altri tre giri di chiave. Una l'abbiamo girata con la Baggi Galupo dobbiamo girare altre due volte la chiave. Quindi quando arrivo a quarantaquattro barra quarantacinque allora mi sento un pochettino più tranquillo. Prima no. Benito. La più difficile eh se ti è arrivata qualche telefonata o se hai e credo di sì l'ambizione e la voglia di misurarti con eh campionati diversi e naturalmente la tua carriera è questa nel senso è il calcio no? Il tuo eh il tuo bisogno primario chiamiamolo così. Quindi quanta voglia c'è di fare bene per poi toccare lì di diversi senza nulla togliere al Montesilvano ovviamente. La la voglia è tanta. Io ho intrapreso questa carriera fermo restando che domenica gli ultimi dieci minuti ho giocato. Tu prima dicevi che mi dovevo rimettere la maglia. Io domenica gli ultimi dieci minuti ho giocato. Però secondo me adesso stai meglio in panchina dai. Eh allora il il sogno è quello di di ripercorrere eh la carriera d'allenatore come quella da giocatore. Magari facendo qualche categoria maggiore mi sono fermato alla serie di io. Fare lo stesso percorso eh. È difficile quindi intanto sono contento di quello che sto facendo. Ringrazio chi mi ha permesso di farlo ovvero la società del Montesilvano insieme alla società del river con la quale abbiamo un rapporto di eh gemellaggio e e poi quello che ci riserverà il futuro vedremo. Lavorare, 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 aggiornarsi, lavorare e poi solo Dio sa quello che ci riserverà il domani. Assolutamente sì eh ho ancora un minuto, un minuto e mezzo eh domanda eh secca escludo da questo gioco diciamo così mister Antignani per eh correttezza nei confronti delle squadre avversarie soprattutto però bruciapelo domanda bruciapelo risposta immediata Marco Di la favorita da quello che ho capito per te è l'Aquila. No no per me Avezzano. Ah Avezzano perfetto. Pier Giorgio? Avezzano ma mi piacerebbe rispondere se potessi la prossima settimana vorrei vedere insomma la reazione dell'Avezzano. La prossima settimana forse ci saranno altri ospiti. Ad oggi mi hai detto Avezzano. Sì. Sì ad oggi è chiaro ad oggi Avezzano chiaro ancora rimane per me rimane ancora la favorita. Non solo perché primo in classifica ma credo un computo generale rispetto a quello che hai visto fino adesso. Sì sì ad oggi Avezzano. Perfetto. Giovanni? Ma Avezzano. 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 Federico? Anch'io non mi discosto dall'altro dagli pareri degli altri colleghi e dico assolutamente Avezzano. Perfetto allora l'Avezzano che raccoglie insomma il parere favorevole di 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 tutti i nostri ospiti o quasi perché lo ripeto a Davide Antignati non non ho fatto questa domanda. Qualche altro mister l'ho fatta. Devo essere devo essere sincero però già tante domande particolari abbiamo fatto a lui e allora evitiamo evitiamo. Io lo saluto. Grazie Davide per la tua presenza in bocca al lupo per domani e complimenti davvero a tutti. Grazie a voi. Grazie grazie Davide un saluto anche a Pier Giorgio Stacchiotti. Buon lavoro per domani Pier Giorgio e insomma ci riporterai questo report dalla gara di penne. Buon lavoro davvero e grazie. Grazie Lorenzo un abbraccio a te e un saluto agli ospiti e ai nostri telespettatori. Grazie Pier Giorgio. Ciao Giovanni grazie grazie anche a buona partita per per domani e insomma in bocca al lupo davvero per tutto soprattutto. Crevi crevi il lupo grazie mille Lorenzo. Grazie a te Giovanni. Grazie anche a Marco eh di Sante che sarà a Pontevomano per raccontarci il match tra Pontevomano e Giulianova. Lo ricordo ancora una volta partita eh che si disputerà al comunale di Villa Vomano a porte chiuse ma noi con la nostra squadra saremo sugli spalti per trasmettervi in diretta streaming il match tra eh Pontevomano e Giulianova. Grazie ancora Marco. Buona serata a te. Grazie Lorenzo per l'invito eh un saluto a tutti gli telespettatori di tre tre otto. Grazie e grazie a Federico Di Fabio. Ciao Federico di Bianco Vestito insomma eh buon lavoro anche a te per domani. Grazie grazie Lorenzo un saluto a tutti gli ospiti ovviamente buon divertimento a tutti quelli che ci seguiranno domani sui nostri canali. Grazie grazie a Federico e grazie a voi soprattutto che ci seguite sempre numerosissimi a casa comodi seduti sul divano ma è così poi la domenica si va in tribuna a prendere freddo e pioggia ma l'eccellenza insomma vuole anche questo sacrificio cuore passione per seguire la propria squadra del cuore. Noi ci vediamo sabato prossimo l'orario bene o male è sempre quello ventidue circa minuto più minuto meno il canale come lo sapete ebbene è quello eh della eh dell'eccellenza Rete Otto Sport canale undici del digitale eh terrestre ci saranno ovviamente altri ospiti come sempre di livello come lo è stato questa sera. Grazie a tutti e davvero buonanotte alla prossima Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.